Musica Hey guys e benvenuti Oh che casino Hey guys e benvenuti in questo nuovissimo video Oggi siamo su un nuovo gioco Siamo su Brawl Stars Me l'avevate chiesto quindi ho deciso di provare a portarvi un video In realtà non è il primo che faccio su Brawl Stars Ne avevo fatti altri due sul canale tempo fa Non so se per caso li avete visti Poi comunque avevo smesso di portarlo perché non era piaciuto così tanto Comunque eccoci qua l'ho riscaricato da poco appunto perché me l'avevate chiesto Ho giocato un po' per riprenderci la mano E infatti come vedete qui sto accumulando delle ceste poi per fare una specie di pack opening Povero ovviamente perché non posso shoppare Se vi dovesse piacere questo tipo di video Allora purtroppo sarà un po' complicato giocare perché mi si è rotto lo schermo del cellulare Quindi la parte di sinistra Quella che voi vedete sinistra dove ci sono le case dove c'è scritto negozio, brawler e notizie In realtà il touch non funziona più Quindi ogni tanto la bevetta, quella per muoversi non mi funzionerà spostando il dito su quella parte dello schermo Quindi magari ogni tanto faremo un po' di casino Comunque allora per questo video siccome in realtà è da parecchio che non lo porto Non so esattamente cosa fare Poi per i prossimi ditemi voi che tipo di partite, di contenuti volete vedere su questo gioco Comunque per adesso andrei proprio per iniziare a fare una partita di footbrawl e sopravvivenza Così prendiamo anche la stella per la cassa quella grande Vi faccio vedere giusto un attimo che brawler ho Ne ho veramente pochi Ho proprio quelli principali, questi qua, vi faccio vedere Diciamo che me ne mancano ancora una marea da sbloccare Vabbè direi che possiamo iniziare con questa prima partita Giochiamo con Jesse Uno dei miei brawler preferiti Visto che quando colpisci qualcuno poi i colpi vanno a prendere tutti gli altri Quindi mi sembra ottimo Che in realtà ci stanno facendo male No, ce l'abbiamo fatta Io quasi quasi gli piazzo una torretta qua Guarda qua, così non me la posso Dai zio, vai, vai che questa la prendo io Dai, 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 vai, 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 che qua colpisco tutti io No, ma non l'ho lanciata Ah, pensavo di averla lanciata Eh beh, comodissima, comodissima Guarda lì, pensa di salvarsi Invece lo andiamo a prendere Lo andiamo a prendere Stanno rinascendo i suoi amici No, 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 no Eh, guarda, io te la rimetto Eh, adesso cosa fai? No, dai, tirala, tirala Zio, tirala, tirala Dai, che potevi tirarla No, non ce l'ho fatta Che peccato Ok, sto facendo abbastanza Stiamo facendo abbastanza schifo Tira questa cosa Forza, veloce No, 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 no Ce l'avevo fatta, ragazzi Ce l'ho vicinissimo Certo che i miei compagni sono veramente inutili, eh Che praticamente gli ho spianato la strada Potevano fare gol almeno due volte Invece Ecco, ci hanno pure aperto la cosa Ottimo Uh, la para, la para, la para Ecco Gol per la squadra avversaria, signori Siamo finiti in una squadra veramente scarsa Eh, c'è poco da fare Mia, 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 metti lì la cosa Guarda, è fermo È fermo quello Quello è fermo Come faccio io? Non sta giocando nessuno E mi spieghi come faccio io Ok, 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 ok No, teniamoci il tiro potenziato Teniamocelo Sparalo dentro Uno pari Incredibile, sì Uno pari Riapriamo la partita La finale di Champions League E la riapre La riapre così Comunque questa modalità fa il devasto, Jesse Perché vedi tutti i colpi che continuano a fare avanti e indietro Abbiamo perso Guarda, questo la tira dentro E te pareva Partita, cioè, davvero Squadra inutile Adesso, ovviamente, giochiamo ancora una partita Perdiamo pure i trofei alla grande Usciamo perché non voglio ricapitare con quelli di prima E adesso andiamo a giocare Se vi va, creerò anche un mio team Se volete Così possiamo anche giocare insieme Ok, vai Vediamo se questa squadra Uh, mi hanno già devastato No, c'è una Jesse anche in quella squadra Vabbè, io ho i compagni fermi Capito, nelle squadre di gente che non sta giocando Allora, adesso mettiamo lì una cosa Una torretta che ci dà una mano No, no, ha segnato Incredibile, signori Squadra davvero Cioè, boh Raga, non so che dire, ragazzi Io finisco nelle squadre davvero Che fanno schifo Guarda, guarda, guarda Guarda che forse ce la facciamo No, mi ha preso Mi ha preso, peccato Potevamo andare a fare gol Ok, la situazione non è buona Non è buona affatto Qua vediamo di fare un po' il devasto Perfetto Uno, dai La torretta, porca miseria Eh, non ho capito Questo qui cosa sta facendo Cioè, sta qui in porta Ma, zio, non ci serve il portiere Ci servono gli attaccanti Se no, poi, guarda Vedi, qua mi vengono tutti a targettare Sono l'unico che sta giocando Ok, ok, ok Abbiamo il tiro speciale Possiamo fare il tiro speciale Occhio che lì c'è, c'è Jesse Attenzione, attenzione 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 che ce la possiamo fare Dai, vai No, non ci credo Che errore Ho sbagliato Palo Incredibile Clamoroso errore, signori Ecco che fanno il secondo gol Ecco che fanno il secondo gol E niente da fare, ragazzi Abbiamo perso anche la seconda partita Terzo tentativo su Footbrawl Eh, devasto totale qua Devasto totale, ok Abbiamo anche la ulti Dai che ce la facciamo Boom Guardala così Sponda Palo gol Incredibile, signori Noi andiamo a segnare il primo gol della partita Questa me la sento, la vinciamo Me la sento, la vinciamo Guarda, sono tutti là Sono tutti là Guardalo là Lo prende così Abbiamo ancora la La mossa speciale No, vabbè La prende lui, perfetto Allora guarda Metto la torretta qua di supporto Così puoi andare, amico Tranquillo Boom E abbiamo vinto questa partita Partita velocissima, signori Vinciamo, non siamo i migliori Secondo me mi meritavo comunque Il titolo di migliore Adesso andiamo a fare sopravvivenza Recuperiamo anche i trofei che abbiamo perso Ottimo E abbiamo un bel po' di casse da aprire Per uno dei prossimi video Non vedo l'ora perché non ho più soldi Cioè praticamente non sto facendo niente Da quando ho iniziato a giocare Non ho guadagnato un soldo Perché sto tenendo tutte le casse Andiamo a usare Bull Per la sopravvivenza Ovviamente Secondo me è il brawler migliore Per la sopravvivenza Comunque io mi trovo benissimo È il mio brawler preferito in assoluto Però devo dire che per la sopravvivenza I tank in generale Ma particolarmente Bull Sono davvero fantastici Poi Bull Secondo me Non tutti lo sanno usare Perché ne ho visti tanti che lo usano Ma non lo usano bene Devi andare a sparare Proprio quando sei appiccicato all'avversario Perché così lo prendi con tutti i colpi E fai una marea di danno Ripariamo qua dietro la cassa Aia 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 Guarda che questo ci fa Aia Aia No 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 Meglio stare lontani Meglio stare lontani Ecco Colto è abbastanza pericoloso Ok Qui abbiamo È il primo Vediamo se riusciamo ad ammazzare No Vabbè Ci ha fregato In effetti Forse era meglio evitare di attaccarlo Visto che aveva 4 gettoni Non so come si chiamano in realtà Ovviamente la rigiochiamo Dobbiamo andare a fare la vittoria Anche su sopravvivenza Peraltro di solito sono bravo Ne ho vinte tantissime di sopravvivenza Allora Oh perfetto Ci abbiamo la cassa subito qua vicino Ottimo Ok Il primo gettone Ce l'abbiamo Perfetto Ah Lì ce l'ha fregato Ok ok Dobbiamo andare a prendere le altre casse Uh guarda qui c'è il primo C'è il primo Vieni qua No vabbè Lì c'è una cassa C'è una cassa Andiamo a prendere la cassa Ah C'è Shelly C'è Shelly Vieni qua Vieni qua No il primo colpo me l'ha Dobbiamo fare Arriviamo al grado 17 con Con bulla Ok Abbiamo subito le tre casse qua Andiamo a prenderle immediatamente Veloci Dobbiamo essere veloci Vai così Vai così Ok uno ce l'abbiamo Perfetto Quella si è spostata un po' di là Ok L'ho vista che lì Grazie che me lo Vai così Vai così Dai No no sei mia Come Come è possibile Come è possibile Incredibile C'è questo qui proprio me doveva colpire Non so Non c'è nulla da fare Vieni a colpire me mentre sto attaccando una Oggi abbiamo sfortuna in sopravvivenza ragazzi Però non voglio demore Dobbiamo farcela Dobbiamo farcela Dobbiamo finire questo video Con la vittoria in sopravvivenza ragazzi Ok Prendiamo subito la cassa qua vicino Oh lì vedo che c'è bombardino Che peraltro è attaccato da qualcuno Ottimo Da colt Adesso t'ammazzo colt E laserato Distrutto Perfetto Ottimo Questa partita è quella buona Me la sento Almeno per il podio Uh Eccoci qua Eccoci qua Dai 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 Ce ne abbiamo già quattro Siamo messi bene Siamo messi bene Possiamo Guarda lì Lì si stanno facendo a pezzi Guarda che arrivo io Eh grazie Te ne puoi anche Oh 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 occhio che c'è un bull che ci segue Ecco occhio che c'è un bull che ci insegue Devo recuperare vita Devo recuperare vita Devo recuperare vita Occhio che è pericoloso questo eh Occhio che è pericoloso Andiamo a nasconderci Andiamo a nasconderci Abbiamo recuperato vita Lo aspettiamo E poi guardalo qua Guardalo qua Devastato Incredibile signori Siamo in tre Siamo in tre Il podio è nostro Siamo in due Perfetto È rimasta a scegli Ottimo Prendiamo questa cassa se ci riusciamo Che uno di questi in più ci fa comodo Perfetto Aspettiamo di ricaricare le nostre cose E adesso dobbiamo semplicemente trovare scegli Stiamo tranquilli perché Com'è possibile scusa Eravamo rimasti in due morta da sola Incredibile ragazzi Incredibile Ok Andiamo a prenderci anche questo Non capisco come siamo Ah forse perché c'era il robottino Quello lì Probabilmente l'ammazzate al robot Peraltro io non l'ho neanche visto Direi che per questo episodio su Brawl Stars Può essere tutto Io spero davvero che vi sia piaciuto Mi raccomando se così è stato Spolliciate, commentate Condividete il video a tutti i vostri amici In modo da aiutarmi a crescere Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto E attivate la campanellina Per rimanere sempre aggiornati su tutte le notifiche Seguitemi su Instagram Eccola passate Ciao ciao